Il centro-destra pescaresi rivendica insomma la paternità della risoluzione dei problemi allagamento nella zona di Porta Nuova? Beh sì, è evidente che c'è da parte nostra il desiderio di rivendicare quella che fu una scelta strategicamente rilevante probabilmente per due delle opere più importanti che siano state mai realizzate in questa città negli ultimi vent'anni. Parliamo della risoluzione di un problema annoso che ha assillato mezza città, gli allagamenti di Viale Pepe, zona stadio e non solo allagamenti che non erano solo la conseguenza di piogge improvvise anche molto importanti ma di una carenza infrastrutturale che la giunta al Boremascia, l'intero centro-destra pescarese invece affrontò con l'incisività necessaria con un intervento che è stato già completato quello del collettore nella zona dello stadio, Viale Marconi, Viale Bonifica e con l'altro intervento denominato DK15 che noi abbiamo riesumato grazie anche alla nuova governance dell'ACA voglio ricordare che l'ACA guida PD aveva creato buchi di bilancio e non realizzava opere quella a guida di uno stimatissimo professionista scelto in particolare dai comuni del centro-destra tra questi il comune di Pescara ha invece creato le condizioni per il risanamento di ACA e anche per il completamento di un'opera da 8 milioni di euro che si era bloccata alle porte di Pescara per mancanza di finanziamenti determinati dalla precedente governance dell'ATO e dell'ACA che è l'azienda consortile acquedottistica che gestisce anche le reti per quanto riguarda il comune di Pescara Grazie a tutti